l'ufficio srl buffetti tutto per la scuola e l'ufficio rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed è semplice comodo e veloce acqua di fonte cottorella dalla fonte direttamente a casa tua acquistala su www.cottorella.com big mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa il buon latte fresco della filiera locale fa bene alla salute e all'economia del tuo territorio scegli i rietti scegli la freschezza scegli i prodotti clar una scelta di valore ben trovati eccola basket life ancora con voi ci siamo fermati un po per capire come andavano questi playoff ma ora abbiamo le idee abbastanza chiare vi raccontiamo un po quello che è accaduto nella nostra assenza ma poi cercheremo anche di seguirvi fino alla fine perché veramente siamo nel vivo ancora di più di quello che è il campionato perché dopo la bella regular season c'è stata la qualificazione alle semifinali di entrambe le squadre reatine vi presento subito l'ospite che stasera sarà con noi che è l'amico e collega valerio pasquetti del corriere di rietti ciao valerio benvenuto ciao roberto ciao amici saluto tutti con gioia e dopo il covid è la prima volta che torno ospite di rietti life l'ultima fu con antino jackson credo 2020 2019 roberta beggi traduttrice ti ricordi e questo è questa è anche storia anche questa facciamo storia non la faccio solo perché come sempre con me c'è lara piccolo ciao lara ciao roberto un saluto al nostro ospite e un saluto a tutti voi che è successo allora andiamo a vedere cosa è successo in questi play off allora agrigento imola 3 a 1 np cirieti 3 np cirieti salerno scusate 3 a 1 bisceglie senigallia 2 a 2 vedremo cosa succederà il 25 sebastiani rieti reggio calabria 3 a 0 quindi in semifinale avremo agrigento np cirieti e la sebastiani e con vedremo un attimino chi uscirà tra bisceglie e senigallia bene grazie lara allora visto il tabellone così come è presentato vi ricordiamo che si gioca al meglio delle cinque gare le prime due vengono giocate in casa nello specifico da agrigento che affronterà la npc nella parte sotto del tabellone le prime due gare in casa invece vengono giocate dalla real sebastiani allora colpisce molto questa cosa valeria andiamo subito sulla reatinità di quattro squadre nel tabellone numero 42 sono di rieti quindi al 50 per cento statisticamente una città di rieti dovrebbe poter avere la serie a in teoria serie 2 di teoricamente dal tabellone poi c'è da giocarcene allora innanzitutto c'è il rischio tra virgolette più o meno concreto di un derby in finale che se da un lato intriga certamente i giornalisti l'opinione pubblica gli sportivi dall'altro potrebbe essere una meteora per me personalmente sarebbe una enorme sofferenza perché io nutro amore per la npc e per la sebastiani sono due squadre di rieti e se vince l'una e se vince l'altra sono contento sembra abituati a parlare di rieti come città per la stessa visione anch'io l'ho sempre anche se devo dire il nome sebastiani io ho detto anche a giuseppe cattani sono molto sincero suscita in me chiaro affetto chiaro affetto per quelli io 60 anni se dio orrari compirò a settembre quindi di pallacanestro non ha vista tanta e ho visto come te tanta tanta sebastiani meno virtus rieti meno ircop rieti spess meno nsb bellissima meno npc tornare ad abbracciare il nome sebastiani è una grande gioia però questo rischio di averli in finale bisogna prima vincere le semifinali e senza ombra di dubbio la npc insomma ha una avversaria importante vogliamo cominciare da questa ma al tabellone ci torniamo dopo vediamo cosa è successo riavvolgiamo un attimo il nastro perché la real sebastiani è andata a reggio calabria un palazzo meraviglioso palacalla fiore tra l'altro c'erano oltre mille persone che si sentivano vedete che palazzetto ancora più bello del nostro ma d'altronde reggio calabria ha ospitato fior fior di partite di playoff 9.000 spettatori 9.000 spettatori un po come quello di pesaro una capienza di 9.000 spettatori contro la palestra dove giocava la npc che invece era poco più di una palestra quindi voglio dire giocare in un palazzetto di questo genere oltre mille persone sparivano ma si sentivano e ha vinto tutte e tre le gare le due a rieti e questa qui fuori casa ora vedete lo ski con questo missile da veramente da lontanissimo poi è un po anche sofferto ma alla fine ha voluto chiudere la serie è andata subito sul 3 a 0 questa è stata gara 3 appunto vinta a reggio calabria una avversaria diciamo motivata in casa ma la differenza era piuttosto netta valerio c'è d'accordo attenzione però perché reggio calabria è reduce era reduce da un giorno di andata presso che disastroso 12 punti ma un girone di ritorno che l'ha collocata alle spalle di agrigento nel solo girone di ritorno con 24 punti era una squadra che proveniva da un bel momento che ha vissuto un bel girone di ritorno e naturalmente è il confronto con la sebastiani mi piace chiamarla così la real sebastiani era un confronto chiaramente a favore di rieti perché grazie a dio questa squadra che ha inanellato 15 successi consecutivi ha cominciato a giocare il basket del quale è capace per i giocatori che la compongono giocatori di grande tasso tecnico di grande livello di esperienza grandi giocatori anche under giovani molto molto forti molto migliorati quindi l'esito della partita diciamo della di gara tre poteva ritenersi quasi scontato reggio rieti l'ha posseduta questa gara ha avuto l'inerzia per praticamente 30 minuti soltanto ora non ricordo se nel secondo nel terzo quarto credo nel terzo quarto la viola reggio calabria ha avuto un c'è stato un tentativo di rimonta di recupero ma la squadra di finelli lo ha sedato in maniera veramente brillante l'ha voluta chiudere si noi ci riposiamo nove giorni tre a zero con pieno merito roberto andiamo a finire al 29 maggio quando ci sarà gara 1 al palacio giurna e chiudiamo questa parentesi della real sebastiani con con il solito apporto tecnici andiamo a vedere il contributo di coach alex finelli abbiamo giocato una partita esterna tosta in una in un campo dove c'è fattore campo e si è sentito quello che mi è piaciuto della mia squadra è stata la lucidità che abbiamo avuto quando reggio calabria rientrata cioè dall'inizio del terzo quarto in poi grande lucidità grande anche serenità emotiva nel giocare su un campo esterno che ci ha permesso di costruire buoni tiri far entrare in ritmo claudio and oia che è stato decisivo nel break permettere a marco contento a federico loschi di trovare i loro tiri la regia di stanice di piazza ci ha aiutato tanto in momenti diversi i giochi a due tra stanice and oia sono stati illuminanti per costruire un break importante quindi mi è piaciuta la lucidità emotiva della squadra beh valerio chiudiamo stanice piazza si alternano due play così credo non ce l'abbia nessuno e in doia se non c'è doia c'è contento se no c'è loschi se no c'è gherzetti sotto insomma una super squadra è certamente e sta giocando ora sta giocando di squadra e credo questo sia un gran bel problema per tutte le avversarie tutti i giocatori che io ho avuto la fortuna di intervistare per il corrido di rieti cioè gherzetti contento doia mi hanno esternato e questo loro ritrovato amore chiamiamolo amore sportivo amore agonistico che nella prima parte di stagione non era emerso a causa di tante difficoltà soprattutto i tanti infortuni probabilmente anche una preparazione non avveduta il ritorno di luca verdecchia e lo testimonio ampiamente lo stesso ondoia e lo stesso gherzetti e lo stesso contento mi hanno detto mi hanno ribadito che luca verdecchia è stato un elemento molto importante naturalmente primo di tutti alex finelli per ritrovare questa unità questa compattezza questa solidità e per fare in maniera tale che la sebastiani potesse rendere per la super squadra che realmente è secondo la quale è stata costruita puntualizziamo che luca verdecchia è in aiuto al certamente luca verdecchia in aiuto ma luca insomma non necessita di 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 presentazioni è persona stimata per il lavoro che fa in tutta italia quindi è un grande professionista e questo era il capitolo real sebastiani allora passiamo un secondo a vedere la npc che ha sofferto un pochino di più a salerno io mi sono un po sbilanciato in un parere così da bar passatemi il termine solo per un minuto che secondo me raggio calabria era quasi più forte di salerno per come la vedevo io salerno faceva veramente fatica a trovare gente che potesse far canestro e gara 3 è stata veramente sofferta per la per la npc poi invece in gara 4 sono soprattutto hanno preso un bel margine sono tornati le percentuali migliori nei tiri da 3 e sono riusciti finalmente a chiudere la serie sul 3 a 1 probabilmente potevano chiuderla anche prima però insomma anche qui nettamente superiore la npc rispetto a salerno allora è stata una serie combattuta è stata una serie combattuta perché salerno si è classificata al quinto posto nell'altro girone quindi almeno in linea teorica era forse un pochino superiore a raggio calabria ma questo alla luce dei numeri sul campo mi sembrava un po meno sul campo forse no è meno meno dotata di tecnica meno dotata di esperienza e la npc purtroppo ha questo questo limite che è emerso durante l'anno cioè contro le squadre che non sono particolarmente competitive particolarmente forti ma che aggrediscono un pochino come fanno i giocatori di di gabriele ceccarelli non di rado incontra delle difficoltà è accaduto con senigallia è accaduto con gli esi in casa è accaduto a teramo è accaduto a cesena nelle in questa con queste sconfitte la npc ha compromesso una migliore posizione nella griglia playoff quindi io a questo punto non so se la partita con agrigento questa semifinale sarà così così difficile certamente è difficile perché agrigento è fortissima però la npc di gabriele ceccarelli è una squadra che si esalta contro le ottime formazioni la vittoria di rimini lo testimonia ampiamente nel primo al giorno di andata contro la sebastiani che non era ovviamente quella che è oggi quindi è una squadra che non avrà nessun peso psicologico e che ha contro agrigento e ad agrigento potrà giocare con piena libertà e ti garantisco da uno che vede come te la calesto da tanti anni che la npc se poiché difensivamente è una squadra formidabile e se è ingiornata nel tiro dalla lunga dalla distanza diventa pericolosissima per qualunque formazione sono d'accordo lo dicevo proprio oggi di nuovo offline però rimaniamo su questa partita per chiudere perché tra un attimo entreremo ancora di più nel vivo del clima playoff delle prossime avversarie come tu già ci hai anticipato parlando già di agrigento che è la prossima avversaria della npc non si conosce ancora quella del real sebastiani mercoledì sera sapremo anche se sarà bisceglie o senigallia ma anche in questo caso abbiamo il parire tecnico si andiamo a sentire le parole di coach gabriele ceccarelli sistemiamo le coronarie stasera perché è stata una vittoria sofferta che abbiamo dovuto fare due volte siamo andati più 19 a fine terzo quarto più 17 palle in mano una palla persa barbina e poi le ha sbagliato ci manda più 15 invece che più 17 o più 19 appunto e poi ci siamo dovuti giocare un ultimo quarto con loro che hanno fatto anche canestri difficili ma noi ci siamo lasciati prendere dalla loro onda energetica è chiaro che si è in trasferta loro avevano 10 minuti alla fine della stagione hanno dato tutto quello che ho detto ai ragazzi è che non non si può essere scontenti per una vittoria per un passaggio di un turno per una semifinale playoff che a inizio dell'anno tutti per tutti era insperata quindi siamo contenti per il raggiungimento di questo primo obiettivo che è la semifinale playoff e lo dedichiamo alla società e ai tifosi che ci sono venuti a vedere adesso non ci vogliamo fermare adesso aspettiamo l'accoppiamento però arrivati a questo punto vogliamo divertirci ci siamo tolti una scimmia dalle spalle adesso tocca a noi abbiamo tolto la scimmia dalle spalle è bellissima tra un minuto ripartirò da qui ma ci fermiamo un secondo per dei consigli pubblicitari l'ufficio srl buffetti tutto per la scuola e l'ufficio rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed è semplice comodo e veloce acqua di fonte cottorella dalla fonte direttamente a casa tua acquistala su www.cottorella.com big mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa il buon latte fresco della filiera locale fa bene alla salute e all'economia del tuo territorio scegli i rietti scegli la freschezza scegli i prodotti clar una scelta di valore eccoci allora Gabriele Ciccarezzo siamo contenti molto rasterenato uno spirito diverso ci siamo tolti la scimmia dalle spalle secondo me come dicevi poc'anzi Valerio vuol dire che veramente diventa il pericolo numero uno una squadra così tra virgolette pazzoide perché capace di tutto e del contrario di tutto se fossi agrigento io mi preoccuperei di capire che gara uno faranno perché veramente insomma può creare problemi secondo me gara uno può veramente avvenire che la npc prenda di sorpresa una squadra forte come agrigento un minuto solo perché voglio che Lara ci dice come costituire agrigento poi parleremo anche delle avversarie della Sebastiania si andiamo a vedere il roster di agrigento tra ore grande indelicato cuffaro bruno cossi chiara stella morici ambrosin bella via peterson mayer lo biondo il quintetto ricordacelo una cosa ti volevo dire roberto da così da appassionato di questo meraviglioso sport non mi non sono andato adesso a controllare nella mia memoria storica nel mio computer ma non mi pare che la npc nei cinque o sei anni di serie a due abbia mai vinto ad agrigento e agrigento ricordo che era trapani la nostra la nostra bestia nera a suo tempo spero di non sbagliare più di una volta agrigento ha vinto a rieti si si è vero è vero ma credo che la npc non sia mai riuscita a vincere ad agrigento ma questo potrebbe sembrare parlavamo della serie a aspetta aspetta potrebbe sembrare una nota negativa non lo è perché come diceva giovanni trapattoni secondo la legge dei grandi numeri e prima o poi le statistiche devono cadere quindi auguriamoci che appunto il vecchio trap abbia tra l'altro si sono incontrate in coppa italia e agrigento ha avuto la meglio anche tra virgolette facilmente perché fu almeno per l'ultimo quarto uno dei brutti quarti che di solito gioca la npc perché se li gioca tutti come li sa fare partiamo dal quintetto di agrigento che potrebbe soffrire la difesa dei reatini dunque la npc c'è a questo secondo me che naturalmente è una squadra giovane molto giovane se tu togli in broglia broglia proglia giorgio è una squadra che soffre probabilmente questo tipo di partite per una mancanza di esperienza ecco loro hanno un mix un mix di esperienza e di gioventù notevole e qui c'è c'è il playmaker che è scuola stella azzurra a roma alessandro grande che è un fenomeno io l'ho visto ieri giocare appunto contro imola a un certo punto ha preso la partita in mano lui che segnava da tre segnava da due è un giocatore veramente micidiale e poi naturalmente hanno albano chiarastella albano chiarastella non necessita di presentazioni argentino 37 38 anni non mi ricordo dell 85 giocatore totale ma è un giocatore che è un difensore fantastico io ricordo che è stato l'unico a inibire bobby jones a rieti non sono strutturalmente come l'unico a limitare in maniera totale presso che totale bobby jones che io reputo il solo vero grande americano che giuseppe cattani e la npc hanno vestito dei colori amaranto numero uno bobby jones un altro è yalen cannon ma altro grande appassionale sta due spanne sotto poi hanno hanno quest'altro argentino nicolas morici nicolas morici che è una guardia del 1994 e parte in quintetto questo mike peterson che è un estone del 2000 che so è stato a fare gli esami di stato da pochi giorni in estonia è ritornato e è tornato a giocare ieri la gara che appunto a grigento ha vinto ad imola con questo che è un bel giocatore giovane ma molto 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 bravo molto preparato come un po tutti gli estoni e i lituani sappiamo essere d'altronde valerio c'è il rinforzo ambrosine che parte come sesto uomo ecco ecco poi tanto di capire poi lì purtroppo ecco purtroppo per noi perché io adesso auspico da reatino e da tifoso del basket di questa città che la npc riesca a superare agrigento la vedo difficile la vedo dura perché agrigento è veramente una grande squadra e l'innesto di ambrosine che ha fatto la vittoria e mi ha portato tortore in serie a 1 anche se non era nel quintetto base l'altro anno e quest'anno ha giocato con scafati tutta la regular season e poi è venuto a rinforzare agrigento è venuto a rinforzare agrigento proprio per portarla in serie a 2 perché lui giocava agrigento e è un innesto formidabile questo per la squadra la squadra siciliana posso aprire un capitolo vorrei rivedere un attimo luciano se ci fai vedere la schermata non questa ma quella del tabellone proprio dei playoff volevo fare questa riflessione con te valerio che la seguente allora intanto tu prima hai detto una cosa mi sono appuntata cioè la prima di questo del girone di cioè del girone sud nella regular season è stata agrigento ma annettamente l'ha stravinto la seconda nel girone di ritorno è apparsa proprio reggio calabria si appena eliminata 3 a 0 dalla sebastiani quindi in questo in questo gruppo qui ci sono due squadre del ex girone c cioè del girone del di rieti di roseto di rimini nell'altro girone sono tutte qualificate quelle del girone c quindi otto squadre vandranno inferi finali in semifinale di cui già praticamente sette sono del girone c cioè nettamente più forte il girone c piuttosto di quello del girone di quindi è vero che arrivata prima agrigento nettamente su tutte ma con avversarie decisamente meno forti da quello che ci dice anche il tabellone ma lo sapevamo già quindi se veramente è così forte quest'agrigento lo avrà dimostrare anche con quella che è arrivata quarta nel girone più forte cioè l'npc rieti cioè tra l'altro Roberto lo hanno perso con Imola quindi si sono forti ma sono battibili è una squadra 3 a 1 ha fatto certo non ha fatto 3 a 0 quindi è una squadra è una squadra che può essere sconfitta può essere battuta è una squadra deve andare a vincere in sicilia ecco anche quello è un altro ostacolo non da poco perché c'è un gran tifo ci sarà un gran caldo purtroppo lo fa lo fa da noi figuriamoci come sarà in sicilia quindi si prospetta una due giorni perché loro giocheranno domenica e martedì domenica e martedì venturi a tutta l'agrigento e poi dovranno tornare a riedi per la gara di venerdì e speriamo anche quella di domenica speriamo che gabrile ceccarelli come ha detto sia tolta questa scimmia è un grandissimo coach secondo me un bravissimo ragazzo bravissimo veramente ha costruito un gruppo straordinario da persone giocatori giovani e meno giovani che si vogliono bene che si cercano in campo fuori dal campo che stanno insieme con loro allenatore e questa devo dire è sempre stata un po la forza della npc grazie valerio passiamo in sponda è invece real sebastiani allora lara qui vediamo le due potenziali perché la trasmissione 25 stiamo facendo adesso e ahimè non la conosciamo ancora allora vediamole tutte e due sia bisceglie che il senigallia allora andiamo a vedere il roster di bisceglie abbiamo petronella giannini dip dri sec enie e mastro donato giunta bavoli tips provaroni fontana e dron invece il roster dei senigallia giannini calbini giacomini gnecchi vareskin vedetti fabbri bedin giuliani terenzi figheiras cicconi e rossini allora sono sul 2 a 2 ma è apparsa molto netta una differenza di circa 40 punti in gara 3 in gara 4 scusate quando hanno fatto 2 a 2 perché bisceglie è andata a vincere a senigallia ma perché ha degli infortunati gravi sir per la formazione di senigallia vedetti e giannini che sono due giocatori che comunque del quintetto base di un organico non così profondo e quindi la sconfitta di ieri sembra che possa giustificarsi e legittimarsi in qualche maniera anche con queste due gara 5 a bisceglie ci fa presupporre quasi sicuramente che l'avversaria della sebastiani tra l'altro dillo tu chi l'allena la squadra di bisceglie l'allena un certo luciano nunzi non so se lo conoscete se lo conosciamo un grande saluto se mai dovesse vederci coach luciano nunzi che avrà un po di stimoli a tornare eventualmente quindi anche ai suoi dirà vorrei vincere perché vorrei andare a giocare due partite al palazzo giugno lui quando andò via da una buona maniera perché ti ricordi i tifosi gli ultras con gli ultras però poi ha fatto molto per me è l'allenatore che ha portato in serie a rieti l'ultimo che ha portato in serie a rieti grande allenatore grande persona e ricordiamoci che vincere non è mai facile mai ma insomma però come la vedi sebastiani contro bisceglie facciamo finta che sia non ce ne vogliono credo che sarà bisceglie credo che sarà bisceglie due gare interne di rieti come al solito gara 1 sarà quella più impegnativa domenica a tutti i costi contro una squadra che naturalmente non avrà nulla da perdere in questo caso la scimmia se così si può chiamare ce l'avrà da sebastiani sulla spalla no quindi dovrà fare l'attenzione appunto soprattutto a gara 1 c'è un ex c'è dri che giocava corrieti tantissimi anni fa c'è dip che è sempre stata una fissa dei tifosi creativi di poterla avere come centro ormai un po attempato è attempato però sta lì è chiaro che ce ne stanno parecchi c'è 38 anni marcelo dip però ce ne abbiamo anche noi parecchi di questo per carità però si passano alla grande come si gioca certe certe partite insomma allora tu questa è una formazione roberto un po non lo so io l'ho vista di giocare qualche qualche pezzettino di partita delle dei quarti di finale ma poca roba è una squadra che anche è arrivata anche alle finali di coppa italia dove non ha assolutamente brillato è una squadra ben allenata una squadra che unisce esperienza e gioventù c'è filiberto tri che fu allenato da alessandro grotti a riedi nel 2010 c'è appunto marcelo dip c'è arrivata arrivata quarta comunque si nel geroma la quarta però poi a a questi giocatori anche di colori questo colore fa di lusec per esempio come mi pare l'ha citato lara prima e manuel enie ne abbiamo conosciuti già alcuni no con cesena giocatori molto fisici rognosi che la sebastiani soffre della prima parte di stagione soffriva molto mi pare che adesso li soffra molto meno l'abbiamo visto con raggio calabria quindi speriamo bene speriamo che bene tutto vada per il meglio allora per aggiornarvi sia roseto che rimini sono entrambe già in semifinale anche loro ma era scontato lì sarà un'altra gran bella finale nel tabellone numero tre quasi sicuramente sarà roseto contro rimini però noi rimaniamo sul nostro le prime due gare in casa che potrete vedere saranno della real sebastiani domenica e martedì o con bisceglie o con senigallia lo sapremo mercoledì sera mentre nelle stesse date si potrà seguire su l'np pass ma non al palazzetto ovviamente l'np cirieti che andrà in sicilia ad agrigento mara io penso che abbiamo detto tutto e sì abbiamo detto tutto e staremo a vedere cosa succederà grazie allora io saluto e ringrazio valerio pasquetti il corriere di rieti ciao a tutti grazie amico e soprattutto salutiamo tutti voi per averci seguito anche in questa puntata di basket live l'ufficio srl buffetti tutto per la scuola e l'ufficio rivolgiti a noi anche per l'attivazione dello speed è semplice comodo e veloce acqua di fonte cottorella dalla fonte direttamente a casa tua acquistala su www.cottorella.com big mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa il buon latte fresco della filiera locale fa bene alla salute e all'economia del tuo territorio scegli i rieti scegli la freschezza scegli i prodotti clar una scelta di valore